gli obiettivi intermedi che abbiamo sono quelli che vi abbiamo già detto la prossima settimana l'isola di capri sarà isola free covent e faremo una bella campagna di promozione mondiale perché capri libera dal covid è un attrattore per tutta italia non per capri la settimana successiva completiamo ischia capri abbiamo intenzione di dare priorità alle categorie economiche abbiamo firmato un accordo con confindustria organizzazioni sindacali hanno aderito a questo accordo già 250 aziende che aspettano soltanto la consegna del pacino e sono pronte a vaccinare i propri dipendenti con personale proprio abbiamo avviato la vaccinazione per il personale del trasporto abbiamo cominciato con eav ma abbiamo aperto l'iscrezione a tutto il personale del trasporto della regione campagna ma intendiamo dare priorità al comparto turistico alberghiero commerciale e quindi vogliamo dare priorità oltre che alle isole alla costiera sorrentina al litorale domizio alla costiera malfitana alla costiera cilentana perché il comparto turistico alberghiero deve essere immunizzato prima dobbiamo completare per maggio le vaccinazioni